Musica Una domenica pomeriggio, nel segno di Brahms, questo è il nuovo appuntamento di Arezzo Classica, la rassegna dedicata alla musica sinfonica e da camera, voluta dal Comune, dalla fondazione Guido d'Arezzo e realizzata con Camu. Questo è un po' un spettacolo di nicchia, musica da camera fatta alla domenica pomeriggio con due grandi interpreti, Giovanni Netti e Mealli, con un concerto di Brahms veramente accattivante ma non facilissimo. Devo dire che la città risponde, risponde con gioia a tutte le sollecitazioni di ordine musicale che gli proponiamo e nonostante la frequenza degli appuntamenti musicali le sale sono sempre piene. In scena Cristof, Giovanni Netti e Tiziano Mealli che assieme hanno proposto al pubblico aretino le tre sonate per il violino e pianoforte di Brahms. È un autore con cui mi sento assolutamente in linea, sia per quanto riguarda un contatto, diciamo, sicuramente con l'aspetto più spirituale, più alto, oltre che il lato romantico che è ovviamente la sua nota fondamentale, ma c'è un legame che va al di là di questo e che è veramente una connessione più alta e che riferisco alla connessione spirituale. Ecco.